Martedì 14 potrebbe essere il giorno della verità sull'autostrada Cremona-Mantova, sulla quale Marco degli Angeli e Andrea Fiasconaro del Movimento 5 Stelle hanno presentato una mozione in Consiglio regionale, nella speranza di ottenere sia dalla Regione che dal PD, dopo tante discussioni, almeno un documento nero su bianco, un impegno formale e un voto. Infatti dopo l'incontro di due mesi fa a Roma con il nuovo ministro Paola De Micheli, non c'era nemmeno un verbale che riportasse l'impegno del Ministero a sostenere l'autostrada. Il gioco delle parti tra Regione e Ministero è poi proseguito a Cremona, mai però è emersa la documentata certezza di un finanziamento, né da Roma né da Milano. Sul fronte politico poi l'assessore Claudia Terzi non si è mai sbilanciata a favore dell'autostrada, che richiederebbe alla Regione un impegno economico enorme, di fronte all'ostilità di numerose associazioni e comuni che non vogliono sopportare un impatto ambientale in grado di togliere terreno a 230 aziende agricole. I due consiglieri dei 5 Stelle, contrari alla nuova infrastruttura, chiedono alla Regione un'analisi costi-benefici, che chiarisca finalmente, continuando il confronto col Ministero, quale sia il progetto più sostenibile, funzionale ed economico, se l'autostrada, il raddoppio o la riqualificazione della strada statale 10, tanto richiesta dai comuni. Finora per i pentastellati domina un'inerzia imbarazzante. Oltretutto il decreto dell'ex ministro Toninelli, che doveva assegnare strade strategiche, come la SS10 all'ANAS, non è stato ancora firmato dal successore Paola De Micheli. Non c'è un progetto completo attualmente e nemmeno si sa chi potrebbe realizzare l'opera più opportuna fra Cremona e Mantua. Eppure il tono degli annunci, in particolare da parte del sindaco Gianluca Galimberti, non è mai stato così elevato.